Fine dell'imbattibilità della gestione Orlandi. Il Barletta continua a non fare gol, ne subisce uno in apertura di partita, questo di Caturano, e poi non riesce nei successivi 83 minuti più recupero a riequilibrare le sorti del match. I Biancorossi tornano a casa senza punti dunque della trasferta contro la Paganese, tornano a conoscere l'amarezza della sconfitta dopo tre pareggi di fila e vengono agganciati a quota 17 punti dalla Cararese. Alle spalle del Barletta non c'è più nessuno. Nell'undici di partenza per la prima volta c'è Cicerelli che fa coppia in attacco con la Mantia, Meucci invece è la novità del centrocampo. Prima del match minuto di raccoglimento per ricordare Franco Califano, poi la partita e il vantaggio lampo dei campani. Caturano vince l'uno contro uno con Burzigotti ed in sacca alle spalle di Liverani. Primo gol incassato da quando c'è Orlandi in panchina, gara subito in salita per i Biancorossi che un minuto dopo reagiscono con un calcio piazzato battuto dalla specialista Allegretti. L'esperto Marruocco è attento e riesce a deviare la sfera in corner. Gli ospiti provano a giocare costantemente nella metà campo avversaria ma fanno fatica in fase di costruzione. L'estremo ospite tuttavia viene nuovamente chiamato in causa intorno al quarto d'ora e deve superarsi per arrivare sulla sventola mancina di Dezzi. Dalla parte opposta non c'è intesa tra Burzigotti e Liverani. Quest'ultimo manca la sfera Soligo però non ne sa approfittare. Resta minimo dunque il vantaggio della Paganese all'intervallo. Orlandi cambia ad inizio ripresa fuori Cicerelli dentro Simoncelli. Rischiano gli ospiti quando Girardi colpisce la traversa al settimo minuto. Dentro anche Carretta al posto di Meucci, poi Calapai per Pippa. Il Barletta insegue il pareggio e ha una clamorosa occasione per realizzare l'1-1 nel finale. Molina lavora un buon pallone sulla sinistra. La mantia colpisce di testa indisturbato ma fallisce il bersaglio. Finisce così 1-0 allo Stadio Torre. Il Barletta non sa più vincere, non sa più fare gol e a quattro partite dal termine si ritrova in ultima posizione con gli stessi punti di Cararese e Sorrento. La situazione non è complicata di più.